Alvaro, come hai dormito questa notte dopo una partita del genere? Bene, bene, abbiamo fatto una grande partita, siamo tutti felizi e adesso possiamo continuare sognando e lavorando tanto. Due gol nelle ultime due partite, secondo gol in Champions, tutte e due contro il Borussia, stai attraversando il momento migliore della stagione senza dubbio. Sì, aspettiamo di continuare così, quando la squadra sta lavorando benissimo, si vede il lavoro, ieri ho fatto un gol grazie al lavoro di Carlitos e della squadra e dobbiamo continuare così, lavorando tutti insieme. Quello che dice la critica dopo la partita di ieri è che la Juventus sembra aver cambiato mentalità in Europa. Tu che l'Europa la conosci bene, hai vinto la Champions, ti sei reso conto di questo salto di qualità rispetto alle prime partite della stagione contro l'Atletico per esempio? Sì, ci giochiamo così, difendendo tutti insieme e attaccando tutti insieme, come una grande squadra come l'abbiamo fatto ieri, penso che possiamo arrivare lontano e perché non continuare sognando e lottando. Arrivare lontano hai detto, lontano quanto? Lontano quanto si può, noi vogliamo arrivare alla fine, aspettiamo di arrivare alla fine e lo che sì sarà sicuro è che la Juve lotterà per essere lì.